Benvenuti in questa nuova lezione. Questa sarà la prima di una serie di 5 lezioni dedicate alla rivoluzione francese. In questa prima parte ci occuperemo del periodo che va dal gennaio al 9 luglio 1789. Proseguendo, sicuramente è utile allineare un background della situazione economica e sociale della Francia pre-rivoluzione, immediatamente prima della rivoluzione. La Francia del 700, a differenza dell'Inghilterra che sta conoscendo in quegli anni uno sviluppo che sarà poi noto come rivoluzione industriale, ha un'economia ancora prettamente agricola. L'80% della popolazione trovava impiego nelle campagne. In più vi è una rigida divisione sociale. La Francia del 700 è infatti divisa in tre stati. Il primo stato ovviamente è la nobiltà, composta dalla grande aristocrazia terriera. La nobiltà costituisce solo l'1,5% della popolazione francese. I nobili inoltre possedevano circa un terzo delle terre francesi. Quindi abbiamo pochissima popolazione che possiede una fetta consistente degli appezzamenti delle terre. Il secondo stato, cioè gli altri ranghi del clero, che costituisce il 0,5% della popolazione e possiede il 10% degli appezzamenti. Quindi aggregando questi dati abbiamo che il 2% della popolazione possiede il 40% degli appezzamenti agricoli. E infine abbiamo il terzo stato, che è una compagine eterogenea perché abbiamo tutto ciò che non è né primo né secondo stato, quindi dalla borghesia mercantile, gli alti funzionari, ma anche i contadini, i parroci di campagna, i artigiani, i ceti cittadini, eccetera eccetera. Insomma il 98% della popolazione. E per comprendere la retalatezza basti richiamarsi a quella tripartizione della società tipica della feudalità. Cioè eravamo i bellatores, che corrispondono alla nobiltà, coloro i quali facevano la guerra, che si potevano permettere diciamo l'armatura, e gli oratores, cioè coloro i quali pregano, e infine i laboratores, cioè sostanzialmente i contadini. Questo grafico vi rende l'immagine di quanta fetta della popolazione francese sia primo stato, secondo stato e terzo stato. Praticamente la popolazione francese quasi tutta a terzo stato, 98% abbiamo detto. È ovvio che i primi due stati godevano di molti privilegi. Erano esentati dal pagamento delle imposte, a loro volta imponevano tasse e gabelle i propri sottoposti, veri e propri oneri feudali. Inoltre, solo gli esponenti dei primi due stati potevano accedere a cariche statali e militari di rango elevato, da cui il terzo stato era escluso. Quindi, diciamo, per contare erano, diciamo, solo, era una società praticamente divisa quasi in caste, perché chi poteva fare carriera all'interno dell'esercito o, diciamo, nell'ambito dei funzionari politici di alto livello erano solo i primi due stati. Ad aggravare, diciamo, questa rigidità della società francese del Settecento, vi fu, negli anni Ottanta, diciamo, una situazione economica non proprio florida. La Francia è stata sconfitta nella guerra dei Sette Anni, ha cercato una forma di rivalza finanziando i coloni americani durante la guerra contro la madre-patera durante l'evoluzione americana, diciamo, un evento storico che abbiamo già trattato in un altro video precedente, e al deficit si aggiungeva che le entrate fiscali erano esigibili solo e soltanto del terzo stato. In più, le significative spese per il mantenimento della sfarzosa corte a Versailles. Perché? Perché era stata costruita da Luigi XIV al re sole, sia come simbolo di potenza, sia, diciamo, come modalità per controllare paternalisticamente la nobiltà. E' ovvio che, diciamo, questo controllo passava per un totale finanziamento delle spese, delle altissime spese della corte di Versailles. Nel 1676, stesso anno, diciamo, della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, la direzione delle finanze fu... delle coloni americane, scusate, la direzione delle finanze fu assunta da Jacques Necker, che è un banchiere ginevrino, era un banchiere ginevrino. Cinque anni più tardi, quindi siamo nell'81, Necker pubblicò un rapporto noto come rendiconto al re, che in realtà è sostanzialmente una sorta di dichiarazione riguardo allo stato finanziario del Regno di Francia. Questo documento, però, fu falsificato perché non inserì in esso le spese straordinarie, che è la fetta più corposa. Quali sono queste fette straordinarie? Beh, quelle legate alle guerre e al mantenimento della corte, riportando però solo quelle ordinarie. Il bilancio, quindi, sembrò essere in positivo, ma circa sei o sette anni dopo, la situazione finanziaria francese non fu più sostenibile. I successori di Necker compresero che per sanare il bilancio francese era necessario tassare anche i primi due Stati. In tutto ciò, è ovvio che, da un lato abbiamo certamente la penosa situazione finanziaria francese. Dall'altro abbiamo anche un terzo Stato che costituisce il 98% della popolazione francese e non ha, diciamo, alcun ruolo politico. Oltre al pagamento delle tasse, il terzo Stato ha anche la parte della popolazione più attiva economicamente, non parassitaria, e di conseguenza vedeva i propri diritti negati per questa impostazione d'ancien regime, quindi una divisione sociale molto rigida. Le rivindicazioni del terzo Stato trovano espressione nel gennaio del 1689 con la pubblicazione di un pamphlet, di un opuscolo intitolato Che cos'è il terzo Stato? Il cui link, potete leggere in francese, lo metto nella descrizione del video. L'autore di questo opuscolo era Abba Emanuele Joseph Sie, famose sono le parole dell'opuscolo. Cos'è il terzo Stato? Tutto. Significa che appunto rappresenta il 98% della popolazione. Che cosa è stato fatto ad oggi nel sistema politico? Nulla. Che cosa chiede il terzo Stato ancora? Di diventare qualcosa, cioè di essere rappresentato, di non essere semplicemente il serbatoio al quale attingere con le tasse. Ancora, diciamo, ad acuire questa situazione pre-rivoluzionale che va veramente concepita come una caldaia che sta per esplodere, a quanto detto sopra, tra le cause della rivoluzione francese, vanno annoverati almeno altri due elementi. Primo, una crisi agricola e manifatturiale che colpì la Francia negli anni Ottanta. In realtà poi vi saranno varie crisi che si ripeteranno, soprattutto agricole. E questa crisi ebbe come conseguenza l'aumento della disoccupazione e del costo della vita, quindi l'inflazione, impoverendo ulteriormente le casi medio-basse. In secondo luogo, diciamo che i sovrani francesi, Luigi XVI e Maria Teresa, non erano davvero, non erano molto popolari, anzi erano per lo più in visi al popolo, in particolare Maria Teresa, che, detta l'austriaca, ha perso a tornare il suo disinteresse verso il destino e i bisogni del popolo. E' colei alla quale si attribuisce la frase, quanto pare è storicamente falsa, se è finito il pane, è dato al popolo le brioche, insomma. Questa situazione, il re, nonostante non sia così aperto verso l'esercito del Stato, tuttavia non può essere, diciamo, taciuta, non si può far finta di nulla. Luigi XVI consente a convocare gli stati generali, quei 6 stati generali che sono stati convocati per la prima volta da Filippo IV il Bello, a convocare gli stati generali nel 1789. Nella primavera dello stesso anno, il sovrano invitò i sudditi a redigere i Cahiers de l'Oléans. Che cosa sono i Cahiers de l'Oléans? Sono sostanzialmente dei registi, dei quaderni nei quali dovevano essere raccolte le istanze del popolo, che sarebbero poi state discorse nell'Assemblea dei Stati Generali. Dalla raccolta di questi dati, tre sono sostanzialmente le richieste, le istanze, diciamo, più frequenti, che occorrevano di più. L'abolizione dei diritti e dei privilegi feudali dei primi due stati, quindi lo scardinamento dell'anzier regime in altri termini, la richiesta di norme che proteggessero la manifattura tessile francese contro la concorrenza inglese, è chiarissimo, nel frattempo l'Inghilterra sta conoscendo la rivoluzione industriale, nel frattempo l'Inghilterra è in grado di garantire prodotti tessili a prezzi molto competitivi e di grande qualità e di conseguenza è ovvio che vi sia una crisi anche manifatturiale in Francia che in qualche modo deve essere risolta. La richiesta è ancora di norme, questa è ripetuta, c'è un errore, però diciamo sostanzialmente queste due. Gli stati generali aprono i lavori quindi dopo che questa raccolta viene, dopo che questa raccolta di dati dei cagliari dell'organo viene ultimata e diciamo apre i lavori nel 5 maggio 1689. Apre i lavori ma in realtà ben pochi provvedimenti sono presi, perché? Perché sostanzialmente la discussione è staticamente ferma e ferma su una questione, cioè su come votare, su quale criterio adottare per il voto. Per ordine, è ovvio che qui ci sono due gruppi di interesse contrapposto, il primo gruppo è quello rappresentato dal primo e secondo Stato, i quali ovviamente non vogliono rinunciare ai privilegi e dunque propendono, sostengono un criterio di votazione per ordine. In questo modo ogni ordine ha un voto, essendo i primi due ordini accomunati dalla volontà di conservare i privilegi, allora ottengono, se si fosse assunto quel criterio, avrebbero avuto matematicamente la maggioranza dei voti, quindi due terzi. Il terzo Stato invece desiderava che la votazione avvenisse, diciamo, pro capite, per testa, cioè quindi ogni voto, un voto per ogni membro dell'Assemblea e si noti che in questo modo sarebbe stato il terzo Stato ad aver ottenuto sempre la maggioranza, potendo contare su 578 deputati contro il cumulo di 561 dei primi due Stati. Questo, diciamo, è il grafico che rappresenta questa situazione. Ora, è chiaro che è ovvio che qui il terzo Stato è la maggioranza, possiamo però pensare che i Stati Generali non siano poi così rappresentativi se solo e soltanto la metà è il terzo Stato, il terzo Stato in realtà nel Paese reale, come si dice, è il 98% della popolazione. Quindi si prende la decisione di prendere il sistema di voto per ordine e questo causò ovviamente le proteste dei deputati del terzo Stato. Questi, anche grazie al discorso di SIE, che pur essendo in origine appartenente al secondo Stato, perché Nabate, si sposta poi nella compagine del terzo, il terzo Stato si dichiara come vera rappresentanza della nazione francese e beh, grazie, perché rappresenta il 98% della popolazione, definendosi come assemblea nazionale. Il re reagì a questa sollevazione con l'intervento armato, cioè con le guardie reali, fa rinchiudere i deputati del terzo Stato nella sala della pallacorda e lì i deputati, la famosissima sala della pallacorda, la sala deputata a un gioco simile al tennis, e in quella stanza, il 20 giugno 1789, i rappresentanti del terzo Stato giurano di non sciogliere la loro assemblea fino alla promulgazione di una costituzione. Davanti a una tale resistenza, Luigi XIV non poté che invitare i rappresentanti degli altri due Stati a partecipare all'assemblea che prese il nome dunque di Assemblea Nazionale Costituente. Questo è il 9 luglio 1789, un anno molto denso, perché succedono molte cose, da questa data, cinque giorni dopo ci sarebbe stata presa la bastiglia, che vedremo nella prossima lezione. Però, soffermandoci su l'assemblea costituente, vediamo un po' la composizione. Dentro c'erano grossomodo tre gruppi, sono i democratici, i borghesi e i repubblicani che desiderano l'abolizione della monarchia, l'abolizione totale, i costituzionali che sono più moderati, secondo cui, diciamo, che è la parte maggioritaria dell'assemblea, non totalmente avversi alla monarchia, ma desiderosi di istituire un sistema parlamentare che limitasse i poteri di quella, cioè una costituzione in modo tale che il potere del re non fosse, diciamo, assoluto. In questa compagine si hanno avranno intellettuali, borghesi delle professioni e fuoriusciti dei primi due stati, per esempio Sire. Poi ancora abbiamo i monarchici, che sono per lo più, diciamo, la compagine più conservatrice, aristocratici, i quali volevano a tutti i costi mantenere lo status, ovviamente, di privilegio caratterizzante l'Ancien Regime. E, diciamo, con questa prima lezione sulla rivoluzione francese è tutto, e arrivederci alla prossima.